Stand KTM, alle nostre spalle la Super Duke 1290, un mostro con la M maiuscola. 177 cavalli, gran coppia elettronica di ultima generazione, un'estetica ardita ma molto interessante, nonché piacevole. E' la moto per eccellenza di casa KTM, una casa che dall'off-road ha saputo affrontare nuovi filoni e vincere anche le sfide contro le dirette concorrenti. KTM ha voglia di diventare non solo il primo produttore europeo di due ruote ma tra i primi a livello mondiale. Nell'ambito sportivo ha dimostrato di essere competitiva nell'off-road e vuole esserlo anche nella velocità. Magari impiegherà un po' più di tempo però sono convinto che prima o poi i risultati arriveranno. Diciamo un look che è sempre stato molto spigoloso, quello della casa austriaca. Tra l'altro una delle prime case a puntare molto sul maxi-enduro. Tra l'altro una delle prime case a capire che bisogna non copiare i giapponesi se si vuole vincere la sfida contro i colossi giapponesi. Da italiano fa specie, fa strano vedere che il traliccio che è una tradizione tipica dei telai italiani venga adottata da questa casa anche nella massima competizione che è la MotoGP. KTM si affaccia quest'anno per la prima volta in MotoGP, già è l'unicampione in 125 quindi il DNA Racing ce l'ha nel sangue. Chissà se magari in MotoGP arriverà magari ai vertici. Il primo anno credo che sia semplicemente un modo per conoscere quello che è l'ambiente. Un ambiente dove ci sono degli squali che nuotano in quelle acque da decenni, dove non conta soltanto avere dei capitali da investire ma bisogna anche saper investire questi capitali. Credo che KTM arriverà al top nell'arco di tre anni. Per quanto riguarda invece l'ambito industriale e quindi quello che più ci interessa come utenti, KTM rappresenta una perla che chi ha voglia di distinguersi dalla massa, chi ha voglia di avere un prodotto dalla forte connotazione sportiva anche in ambito turistico offra molto 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 in merito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.